1 marzo 1968, Roma, Facoltà di Architettura di Valle Giulia. Gli studenti affrontano i poliziotti inviati a rimettere ordine. È la prima del 68 romano. La risposta, mio amore, è incizionato nel vento. La risposta è incizionato nel vento. Quanti anni può existire una montagna prima che sia incizionato nel mare? La risposta, mio amore, è incizionato nel vento. La risposta è incizionato nel vento. La risposta, mio amore, è incizionato nel vento.